Buongiorno Buongiorno Sono d'accordissimo con quello che dici, ho fotografato al meglio la situazione, avevo bisogno di un'esperienza dove potessi avere più spazio, logicamente non è scritto da nessuna parte che io debba giocare sempre, debba giocare dall'inizio, questo devo guadagnarmelo con le qualità e con il lavoro quotidianamente. Sicuramente, detto bene, sarà per me una stagione decisiva perché ho tanta voglia di far bene, tanta voglia di far gol, penso di riuscirci. Adesso sta a me e spero di poter fare bene questa stagione per il bene del Barlette e per il bene del sottoscritto per poter rimanere a mantenere queste categorie e magari anche ritornare in Serie B. E' chiaro che è un'occasione, come ho detto prima, è un'occasione importante per mantenere le categorie, per mettersi in mostra nonostante le regole e tutto quanto. Io sono dell'idea che comunque se lavori bene, se fai bene, regole o non regole, diciamo che il lavoro paga e se meriti comunque, nonostante qualsiasi regola possano mettere, non dovreste avere dei problemi. Quindi dipende da me, dipende da ognuno di noi, regole o non regole, secondo il mio parere. Antonio, ti sei prefissato l'obiettivo per quest'anno, c'è tipo una ridoppia cifra, insomma cose che tutti gli attaccanti si augurano certamente, però l'obiettivo principale che ti sei prefissato, qual è? Sicuramente quello, io sono un giocatore che vive per il gol, quindi logicamente il gol per un attaccante è importante, è inutile prendersi in giro. Puoi giocare bene tante partite, però se poi non la butti dentro ti diranno sempre che non hai fatto benissimo, quindi penso che per l'attaccante il gol sia importante. Io sono uno che purtroppo vive con il gol e quindi quando non segno vado in paranoia e spero di riuscire a farlo con più continuità possibile. Adesso, logicamente, come ho detto prima, mi metto a disposizione dell'allenatore, spero di poter dimostrare di poterci stare benissimo in questa squadra, con la massima umbilità possibile, perché non è detto che vengo dalla Serie B e devo giocare per forza, quindi... Le due caratteristiche migliori? Sicuramente vedo bene la porta, sono uno che come vede la porta cerca di ricalciare, la maggior parte delle volte spero di inquadrarla e di buttarla dentro. Sono un giocatore che può fare sia la prima che la seconda punta, però logicamente prediligo più fare la prima, perché mi piace stare vicino alla porta, mi piace stare negli ultimi dieci metri, perché mi ritengo anche un opportunista, quindi sottaccare bene la profondità, almeno fino adesso. Spero di fare al caso del Barletta, sicuramente, quindi ripeto, c'è la mia massima umiltà e il massimo impegno per una piazza importante come quella di Barletta. Il salto dalla Serie C2 alla Serie C1, quali obiettivi ti sei premissato? Tu innanzitutto, poi mi chiedo scusa, la durata del contratto del campo? Per me è un contratto annuale, quindi di un anno, poi siamo promessi con la società di riparlarne nel momento in cui, logicamente, secondo le mie prestazioni, mi sembra anche giusto, perché secondo me il calcio d'oggi, anche con la crisi che sta, bisogna dimostrare quotidianamente, quindi è giusto che sia così. Per me sono due anni, ed il mio obiettivo è quello di dare una grossa mano alla squadra, comunque io sono di quantità, però allo stesso tempo ho fatto tanti assist l'anno scorso, lui vive per il gol, io non dico che vive per l'assist, però a me piace, far segnare i miei compagni è un grande piacere per me. Ma che rispiti, qual è il tuo ruolo che ricopri? Secondo me, a guardare come gioca la mezzana più forte in Italia è Vidal, secondo me, della Juventus. Chiaro, nel mondo, i vari Niesta, Xavi, così, sono i giocatori migliori, secondo me, in quel ruolo lì. E niente, io cercherò di dare il massimo per il Barletta e fare appunto quantità e qualità il più possibile. Cosa vi ha spinto a venire il Barletta? Non era, credo, soprattutto per Antonio, una delle scelte tra una rosa di tanti nomi e lo stesso per, credo, per Dajalopo, dopo la buona esperienza allenata, credo che tu abbia avuto anche un mercato abbastanza importante. Cosa vi ha scelto? Per me personalmente, alla fine, la volontà comunque fortemente da parte della società e del direttore, perché sono uno che ha bisogno di sentire la fiducia da parte della società e ho fatto sempre bene quando ho sentito questa. Quindi, alla fine, la volontà da parte della società è stata un fattore importante. Non nego anche la vicinanza a casa dopo tanti anni, approfittando che la mia ragazza aspettava una bambina, quindi, Barletta comunque è sempre conosciuta come piazza, una piazza importante e ho detto perché no. E quindi, alla fine, abbiamo trovato l'accordo con la società e, ripeto, vengo con grandissimo entusiasmo e una cosa è certa, al di là dei gol che farò, sono sicuro che posso dare tanto a questa squadra. Per me mi ha spinto a nire qui la piazza, l'ambizione che ho, è chiaro che il mercato, dopo aver fatto bene in C2, c'era, però magari, magari, per me sarebbe stata anche più comoda andare vicino a casa, se avevo due trofferze, tutto quanto, però è un'esperienza che, secondo me, mi può far bene, poi io sono sempre stato, ho sempre giocato al nord, ho sempre giocato al nord e andare al sud comunque cambiare magari qualche cosa, che adesso, adesso è presto per dirlo, però mi hanno detto che è un po' diverso, qualcosa cambia, potrebbe essere un'esperienza che, sicuramente, potrà essere un'esperienza che, sicuramente, mi farà crescere, mi aiuterà e, allo stesso tempo, in più, un'altra cosa che mi ha convinto a venire qui è, appunto, il direttore e la società che mi hanno voluto fortemente e, ripeto, mi hanno convinto ad accettare con il loro interesse. Grazie. Grazie.